L'interazione è presente con il terzo incontro della serata che al limite dei mesi Gallo vede agli angoli Daniele Ciotti, Boxer Revolution all'angolo rosso contro il Giacomo Vannico Lab, l'ultimo box all'angolo 2 l'incontro è presente sulla distanza delle tre mesi delle minuti, arbitra il signor Spiricare e la prima ripresa Oggi i due posti, i due posti, i due posti, i due posti, i due posti del Giacomo Paglie, 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 Paglie... No, vici di subra, vici di subra! Dobrat!! Brava, brava, brava! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.